Castel dell'Ovo torna splendere anche di notte. La nuova e suggestiva veste luminosa si deve all'impianto realizzato da Enel Sole ed acceso ieri 21 dicembre dal sindaco di Napoli e dal direttore generale di Enel Sole, Giovanni Maria Pisani, molto soddisfatti entrambi per aver illuminato e messo in evidenza una delle maggiori bellezze della città. In poco più di un mese sono stati installati 16 nuovi proiettori da 150 a 1200 watt sulla scogliera di via Partenope, sulla facciata d'intorno al castello, sull'isolotto di Megaride fino all'area del Ramaglietto. L'illuminazione in tal modo, oltre ad esaltarne l'architettura ed avvalorizzare la sua collocazione, permetterà di rendere visibile il castello nelle ore notturne anche per chi arriva dal mare.